Siamo Lucia e Silvia, Plastic Free Ivrea, siamo venuti qua in vacanza a Fano, Baia del Re e niente, abbiamo raccolto un po' di roba, qua solo ne sottopasso perché è una cosa indecente tenendo conto che qui c'è scritto che questa è un'area floristica, Baia del Re, dove veramente è un'area protetta è veramente terribile, cioè guardate nei sacchi c'è di tutto, plastica soprattutto la cosa che ci rammarica sono le reti dei pescatori che praticamente lasciano in mare quindi buttano e arrivano, polistirolo delle casse e poi cannucce, c'è di tutto veramente e noi abbiamo fatto oggi questo per due orette, ci siamo divertite, abbiamo un po' liberato veramente una piccolissima area, è talmente bella, guardate in fondo di qua praticamente non so, sono chilometri di area protetta dove ci sono piumini, cardi, lumacchine eccetera eccetera, è tutto uno schifo lasciate tutto in totale abbandono, mi dispiace perché io sono nata qua a Fano venivo tutti gli anni, vengo sempre così tutti gli anni in vacanza e mi dispiace perché questo è un mare bellissimo e è il mare di tutti anche se sti avendo i tuoi l'abbiamo e l'abbiamo Grazie a tutti.